Prendiamoci alcuni giorni di riflessione e poi, come concordato con la segreterina nazionale, riavvierò le consultazioni con gli altri partiti, movimenti politici e civici che si riconoscono in una coalizione di centrosinistra, mentre per lunedì convocherò una riunione con i massimi livelli politici e istituzionali del PD Abruzzo, alla quale parteciperanno anche i responsabili del PD nazionale per le elezioni amministrative. Fino alla definizione delle trattative, l'unico organo abilitato ad esprimere la posizione ufficiale del partito è la segreteria regionale. Così il segretario regionale del PD, Renzo Isabatino, è intervenuto sul caos in cui è piombato il centrosinistra pescarese, alle prese con la scelta del candidato sindaco. Pescara, ultimamente, sta succedendo che ci sono troppe voci in libera uscita, per cui questo compromette anche una certa regolarità nelle consultazioni delle trattative. Siccome ogni mattina qualcuno magari si alza e parla a nome del PD, ho soltanto precisato che la posizione ufficiale del PD sarà quella presa dalla segreteria regionale, il che non significa che il lavoro svolto non è stato comunque un lavoro importante e interessante, fatto dagli organi locali del partito, a cui va tutto il mio ringraziamento e che continueranno ad affiancarmi. Però, da precisare, lo dico in particolare agli altri movimenti e forze politiche, la posizione ufficiale del PD sarà espressa con un'unica voce, a questo punto, dalla segreteria regionale. Adesso l'iter quale sarà? L'iter è quello di risentire tutti i partiti della coalizione, tutti i movimenti, delle forze civiche, coloro che vorranno continuare a fare insieme questo percorso per costruire un'alternativa credibile alla destra. Le trattative ci saranno, insieme a me ci saranno gli organi locali del partito, ma ho deciso in questo momento di guidare personalmente queste trattative. Nel giro di pochi giorni troveremo sicuramente la soluzione. Il nome dell'ex assessore regionale è un nome forte, è un nome importante, è un nome che legittimamente altre forze vorranno fare, a me personalmente ancora non è stata fatta questa proposta, la valuteremo, la valuterò insieme ad altre proposte pure interessanti che vengono anche dal Partito Democratico e non solo.